Ciao bambini, ragazzi, adolescenti e famiglie, papà e mamme, iniziamo il nostro cammino di avvento. Ho messo davanti a me l'immagine di Maria con il suo Gesù bambino, una lampada che arde e anche voi a casa sarebbe bello allestire un angolo della preghiera per il nostro momento quotidiano. Come sapete da stasera inizia il nostro cammino, siamo nella prima domenica di avvento, come già vi dicevo nella messa, ogni sera alle ore 20 verrà caricato questo video che ci farà compagnia per sentirci in comunione di preghiera durante tutto il tempo dell'attesa del Natale. Dalle 8 in avanti ovviamente resta caricato e potete pregare quando volete dopo le 20, ma sarebbe bello tenere sempre tutti questo orario da quando viene caricato appunto per poterci sentire uniti. Qualche indicazione in questo primo video è doverosa, faremo il segno della croce, leggeremo la parola di Dio, faremo un breve commento aiutati dai magi che sono i nostri compagni di viaggio, con questo libretto che vi è stato dato a Catechismo, il tesoro dei magi, sono loro che ci aiutano ad andare verso il Natale quest'anno con questo itinerario. Reciteremo la nostra preghiera, vedremo quale sarà il nostro impegno per la giornata successiva, concluderemo poi con la benedizione e il segno della croce. Ritaglierete ogni volta laddove ci sarà il vostro segno corrispondente al giorno e colorerete il vostro mandala con il colore del giorno che vi verrà indicato, incollerete il vostro disegno sulla carta regalo che era legata a questo libretto e che tutti voi avete. Iniziamo innanzitutto dicendo che il titolo, il tesoro dei magi, ci ricorda qual è il senso del nostro cammino, noi siamo alla ricerca di un tesoro, tante volte anche il papà e la mamma quando siamo piccoli ci dicono tu sei il mio tesoro, i magi ci ricordano e ci indicano che il tesoro che loro stanno cercando per il quale sono alla ricerca è un tesoro grande, loro sono uomini sapienti, il Vangelo ci dice che sono partiti da terre lontane per trovare questo tesoro, sono proprio alla ricerca, alla caccia di un tesoro, noi lo viviamo a volte come un gioco durante il Grest, cercare un tesoro significa seguire qualche intuizione, lasciarci guidare da alcuni indizi, seguire quella stella interiore per noi, per loro era anche visibile, per arrivare là dove dobbiamo arrivare e l'abbiamo già capito il nostro tesoro è l'incontro con questo bambino, il Dio con noi, il tesoro più grande, colui che è il regalo di Natale per eccellenza e allora il nostro avvento sarà un arrivare a questo forziere dove c'è il tesoro più grande del mondo e anche noi ci prepareremo ad essere poi per i nostri amici a Natale un dono gli uni per gli altri. Ci sono anche i codici QR per poter poi saperne di più riguardo a questo nostro cammino, potete sempre andare a visitare il materiale disponibile che vi è offerto. Iniziamo con la prima preghiera di oggi, domenica 28 novembre, prima domenica di avvento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio dal Vangelo secondo Luca. Gesù disse ai suoi discepoli, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. L'avvento è l'inizio di un viaggio. Per i magi che ci accompagneranno, un viaggio reale dalle terre di Oriente fino alla piccola Betlemme. Per le nostre famiglie, un viaggio simbolico, accompagnato da una carta regalo che dovremo decorare. Come ogni viaggio, il percorso è insieme a desiderio della meta, Betlemme, la nascita di Gesù, e scoperta di sé e delle terre che si incontreranno. I magi capiranno solo grazie al viaggio che il bimbo che hanno di fronte è il Salvatore atteso da sempre. In questa prima settimana viaggeremo alla ricerca di segni che orientano il nostro cammino. Oggi abbiamo vissuto anche la giornata del pane, un primo segno grande per vivere la nostra fraternità, la condivisione di ciò che abbiamo. Preghiamo insieme con la preghiera che segue. Vieni, Signore Gesù, siamo impazienti di festeggiare il tuo Natale. Aiutaci a prepararci bene, con segni di accoglienza, di servizio e di condivisione. Allora, quando verrai, ti presenteremo come regalo quello che avremo detto e fatto durante l'Avvento. Vieni, Signore Gesù, non tardare. Converti il nostro cuore, perché con la testimonianza della vita possiamo portare la tua luce ai nostri fratelli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Dall'Oriente i magi portano il loro mandala da colorare. Inizia anche tu il mandala della prima settimana, i catechisti ve l'hanno spiegato, e colora alcuni settori di rosso. Questo è il primo gesto da compiere. Un grande saluto e l'appuntamento a domani sera. Ciao e buonanotte!